Ha organizzato un po' tutta la serata Dovrebbe unirsi a noi sul palco il bassista di Starbucks, giusto? Stefano Che, eccolo qua Stefano, eri uno degli spettatori del concerto del 89 e del 91 Il concerto del 91 Sono anche il moderatore di Nirvana Italia Forse il sito più importante che c'è italiano su Nirvana Assolutamente il sito più importante Forse del mondo Eh, è da già